Ciao, mi chiamo Emanuele, vengo da Milano, ho 22 anni e sarò il vostro istruttore di tennis. Ciao a tutti, sono Mario, ho 18 anni, vengo da Bari, ho 18 anni, sono il vostro primo metore di contatto. Ciao a tutti, sono Morico, ho 18 anni, vengo da Sera Puntà, sono la responsabile del Moni Club. Ciao a tutti, sono Lorenzo, ho 20 anni e vengo da Enche, vi aspetto tutte le mattine in piaggia, per il gioco e di pomeriggio. Ciao a tutti, sono Francesca, ho 18 anni e vengo da Enche, sono la vostra amministrazione, vi aspetto a voi. Noi, young man, animazione Young man, animazione